Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. La saccatura fredda va allontanandosi sempre più verso est e con sé porterà via sia il fresco che il forte vento di Tramontana che ci ha accompagnato in questi giorni. All'orizzonte, da ovest, è già pronta una nuova rimonta anticiclonica che lentamente tornerà a conquistare il bacino del Mediterraneo. Attendiamoci pertanto nei prossimi giorni un nuovo aumento delle temperature. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì 17 luglio. I forti venti settentrionali puliranno completamente i cili sulle nostre regioni. Infatti l'intera giornata si presenterà soleggiata ovunque. Solo locali annuvolamenti potranno verificarsi sui monti locani ma senza rischio di precipitazioni. Si respirerà ancora aria fresca grazie alle temperature che risulteranno in media o leggermente al di sotto delle medie stagionali. Le minime infatti saranno molto fresche e si attesteranno intorno ai 16-20 gradi nelle zone interne, massime anch'esse contenute inferiore ai 30 gradi. I venti soffieranno ancora sostenuti di tramontana su tutti i settori, in rotazione da maestrali in serata con maggiori rinforzi lungo le coste adriatiche. E per quanto riguarda i mari, molto mosso l'Adriatico, mossi lo Ionio e il Tirrino. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Paolo Lacu, che immortala un'insolita e rara nebbia estiva che avvolge il litorale Salentino a Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione.